Dai cambiamenti climatici alla gestione dei rifiuti, passando per le aree protette e la difesa e l'educazione dell'ambiente. Sono stati individuati otto grandi temi ambientali che il WWF invierà in un dettagliato documento ai candidati alla presidenza della Regione Abruzzo, invitandoli a confrontarsi pubblicamente sui contenuti trattati e a esporre le proprie idee in merito. Filomena Ricci, delegata WWF Abruzzo. Chiediamo dunque che la parte ambientale della discussione politica per le nuove regionali si basi appunto su dati certi, su evidenze scientifiche, non solo su sensazioni e percezioni. Per questo chiediamo ai candidati alla presidenza della Regione cosa pensano di queste tematiche e che cosa vogliono attuare nella prossima legislatura. Otto punti, qual è proprio la priorità? Da dove partire? È difficile sceglierne solo uno. Posso dire che come primo punto abbiamo scelto una tematica sicuramente molto importante, che è quella dell'adattamento al cambiamento climatico, che è quello che sta succedendo a livello globale, ma che deve essere declinato in tutti i piani di attuazione nei vari campi, dall'ambito comunale a quello regionale. Ovviamente non manca la biodiversità, le aree protette, il trasporto sostenibile, i rifiuti, l'educazione ambientale e tante altre tematiche che sono care alla nostra Regione. Nel vostro rapporto, l'Abruzzo al momento, la fotografia attuale, qual è? Come ne esce? L'Abruzzo ne esce bene dal punto di vista della biodiversità, nel senso che abbiamo una serie di specie habitat protetti, anche in modo elevato, con un alto grado di protezione, che fanno dell'Abruzzo una Regione incredibile. Abbiamo dei paesaggi bellissimi che vanno assolutamente tutelati. Da questo vogliamo partire, da questo lanciamo la sfida. Ovviamente le cose da fare dal punto di vista politico e per azioni concrete da mettere in campo per potenziare lo sviluppo della nostra Regione senza intaccarne la biodiversità sono tante ed è di questo ci piacerebbe discutere con i candidati.